buon lunedì gesù aveva appena moltiplicato panni e pesci ed ecco che la gente lo segue lo cerca soltanto perché credeva che quell'uomo poteva essere un risolutore di problemi terreni quali per esempio la fame è significativo ciò che gesù dice alla folla a quella folla che lo cerca che lo segue dice in verità in verità io vi dico voi mi cercate non perché avete visto dei segni ma perché avete mangiato di quei panni vi siete saziati i miracoli che gesù compiva erano dei segni che rimandavano a qualche cosa di più grande rivelavano la presenza di dio in mezzo all'umanità mentre la gente si fermava al primo livello a quello puramente materiale se ci pensiamo questo vale anche per noi oggi pensate a tutti i segni di fede che abbiamo nelle nostre case nelle nostre chiese in giro per le strade non hanno la funzione di arredare o di portare fortuna ma di rimandarci a dio a cosa serve per esempio un crocifisso su un muro una chiesa in un paese un'edicola votiva lungo una strada per rimandarci a dio per ricordarci che tra le tante cose della nostra vita c'è anche lui perciò mettiamoci ogni tanto davanti a quel crocifisso davanti al quale ci passiamo mille volte per affidarci a dio per per dirgli due parole entriamo nella nostra chiesa parrocchiale per partecipare alla messa o per sostare semplicemente un istante in silenzio ricordiamoci camminando per la strada o per qualche sentiero che quell'edicola votiva quella cappella è lì a ricordarci che qualcuno l'ha costruita per dire la sua fede il suo amore per dio e per ricordarci che dio cammina anche oggi ancora oggi con noi e sta in mezzo a noi i segni della fede che troviamo laddove viviamo non riduciamoli a semplici monili ad oggetti di arredamento a semplici monumenti o peggio a musei che ricordano un semplice lontano passato o peggio non riduciamoli appunto a dei porta fortuna ma questi ci rimandano a dio ci ricordano la sua presenza lo stesso vale la maggior ragione per i sacramenti sono segni vivi efficaci con i quali dio si fa presente e ci sostiene non sono segni della tradizione che si fanno giusto per farli e allora chiediamoci il perché desidero fare per esempio battezzare mio figlio mia figlia perché mi sposo in chiesa perché faccio fare la prima comunione o la cresima a mio figlio o mia figlia solo per tradizione perché come dire c'è questa abitudine perché in molti fanno così quei sacramenti non sono robe messe lì ma sono segni con i quali noi entriamo in contatto con dio con i quali gli affidiamo la nostra vita con i quali incontriamo lui con i quali li permettiamo di salvarci di sostenerci di dirci che lui c'è che ci ama tutti i segni della nostra fede rimandano a dio non perdiamo di vista il loro vero valore e la loro vera forza buon inizio di settimana a tutti